Quanta fretta ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società Di noi ti puoi fidare Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai I migliori in questo campo siamo noi È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai Che non ti venderai Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai Noi sapremo sfruttare le tue qualità Dacci solo quattro monete e ti scriviamo il concorso Per la celebrità Non vedi che è un vero affare Non perdere l'occasione Se no poi te ne pentirai Non capita tutti i giorni di avere due consulenti Due impresari che si fanno in quattro per te Avanti non perdere tempo Firma qua È un normale contratto, è una formalità Tu ci cedi tutti i diritti E noi faremo di te Un divo da il fare Non vedi che è un vero affare Non perdere l'occasione Se no poi te ne prenderai Non capita tutti i giorni di avere due consulenti Due impresari che si fanno in quattro per te Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi Lui è il gatto ed io la volpe Stiamo in società Di noi ti puoi fedare Di noi ti puoi fedare Di noi ti puoi fedare Dio 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 Grazie a tutti.